Si decurtano lo stipendio del 10% ed i fondi ricavati vengono ridistribuiti attraverso le iniziative mirate e condivise nella città. Sono il Sindaco e la Giunta Comunale di Mondolfo, sei amministratori che con questa iniziativa ogni anno rimettono in circolo, occhio e croce, 11.000 euro, creando così un circolo virtuoso tra amministrazione e comunità. Era uno dei nostri punti del programma amministrativo, quello del risparmio e riduzione delle risorse e dell'indenità di Sindaco e Assessori a favore di progetti per la città. Ritengo sia un gesto importante che l'amministrazione comunale fa proprio per migliorare il posto in cui viviamo. In questo anno ci siamo concentrati sulle scuole e gli istituti comprensivi ci hanno fatto questa richiesta che abbiamo accolto volentieri. Su come e dove quindi riversare il tesoretto lo decide la comunità nel segno della totale trasparenza. Quest'anno si è deciso, grazie al concorso di idee, di dotare due istituti scolastici comprensivi cittadini di supporti didattici innovativi come le lavagne LIM, monitor interattivi PC e notebook, per rispondere alle sfide sempre più incalzanti a cui la scuola va incontro e per essere partecipi delle dinamiche comunicative ed educative dei cosiddetti nativi digitali. Gli istituti sono il Fermi di Mondolfo e il FA di Bruno di Marotta, già dotata di innovativi mezzi di interazione didattica come i Robot Now e Pepper utilizzati per l'inclusione scolastica. Ringrazio l'amministrazione comunale di Mondolfo che ci ha donato queste strumentazioni, sono andate ad arricchire il nostro laboratorio di informatica che già era costituito da una buona attrezzatura ma in questo caso con il TV Touch ha aumentato ancora di più la sua innovazione e quindi questo rende le lezioni per i ragazzi molto innovative. Ormai l'innovazione tecnologica permane in tutta la nostra attività e quindi anche la scuola si deve adeguare e deve fare in modo che le nuove generazioni sappiano utilizzare le nuove tecnologie in modo critico che non abusino delle tecnologie ma le sappiano utilizzare. Questa attenzione che l'amministrazione ci ha mostrato è stata per noi un elemento di grande importanza. La cosa poi importante è che ci hanno offerto una donazione, come potete vedere i ragazzi usano quotidianamente la LEM oppure in questo caso il televisore Touch nelle loro attività didattiche perché siamo dell'idea che comunque la tecnologia informatica, la TIC nella didattica è comunque un valore aggiunto. è un modo per avvicinare la scuola ai nuovi modi di costruire la conoscenza che caratterizzano i giovani di oggi, i cosiddetti nativi digitali. Sono sollevico oggi.